Giornalisti per un giorno. È quello che hanno fatto i bambini di una quarta elementare della scuola primaria di Mamoiada. E fin qui nulla di strano. La particolarità è che l'hanno fatto in sardo, nell'ambito della sperimentazione dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare, finanziata dall'assessorato regionale della pubblica istruzione con la legge del 7 agosto del 2009. Armati di Penna e Tacquino hanno intervistato i poeti Giovanni Piga di Nuoro e Salvatore Eladu di Mamoiada per carpire i segreti del loro poetare, per investigare sulla loro vita di poeti e farsi raccontare come riescono a giocare con le parole per dar vita a testi che incantano e rapiscono. E così anche loro, stimolati dai racconti dei poeti, hanno provato a comporre lasciandosi trasportare dalla magia e dalle suggestioni delle parole. Un laboratorio di scrittura creativa in sardo che ha messo a nudo il loro mondo interiore, facendo emergere tutte le suggestioni della lingua sarda, capace di dar vita a similitudini, metafore, rime e giochi di parole per farli divertire e gratificarli. Con grande gioia di Giovanni Piga e Salvatore Eladu, che hanno avuto modo di tastare non solo la vivacità della lingua, ma anche la presenza di talenti in erba che fanno ben sperare per il futuro del sardo e della poesia. E ancora una volta la lingua sarda si è dimostrata all'altezza, una lingua moderna, capace di veicolare qualsiasi messaggio che unisce grandi e piccoli, ricca di significati e suggestioni, pronta a sfidare il futuro. L'auspicio è che la sperimentazione nelle scuole, possibile grazie a dirigenti scolastici e insegnanti lungimiranti, continui, non rimanga solo una sperimentazione ma diventi un metodo di insegnamento per riappropriarci di un mondo interiore senza confini e per fornire ai nostri bambini uno strumento per camminare nel mondo più consapevoli. Studi internazionali, di fatti, hanno dimostrato che i bambini bilingui, sin dalla più tenera età, hanno una marcia in più, imparano più facilmente altre lingue e sono più tolleranti verso altre culture. Capire e incoraggiare il bilinguismo sardo-italiano nei bambini contribuirà di sicuro a renderci più forti, sicuri di noi stessi, partendo proprio dalla famiglia. E se vi dovessero chiedere, ma perché devo insegnare il sardo ai miei figli? La risposta è semplice, perché imparerà meglio e più in fretta l'inglese.